Storie di animali. A San Michele di Gansaria diverse persone si sono mobilitate alla ricerca di Bella, una cagnolina meticcia di media taglia senza microchip che da ormai una decina di giorni non dà più notizie di sé e pare che sia sparita nel nulla. La storia che stiamo per raccontarvi ha, sebbene come protagonista in diretta, anche una signora del nord che è alloggiato in una nota struttura alberghiera del paese. Ebbene dopo alcuni scodinzolamenti e alcuni approcci con la meticcia la signora aveva espresso il desiderio di adottarla e quindi di portarsela con sé. Purtroppo non è stato possibile in quanto la cagnetta è prima di essere adottata a Girovagaro in diversi quartieri e nel momento in cui alcune donne del paese si erano prodicate per l'adozione la meticcia si è volatilizzata. L'ultima volta era stata vista a fine settembre, dopodiché nonostante le infruttuose ricerche per scovarla non è stata più vista. La signora che vorrebbe adottarla dal canto suo spera sempre nell'adozione ed è in costante contatto con alcune persone di San Michele per averla finalmente con sé. E proprio oggi la meticcia era attesa dal veterinario dell'ASP per essere sterilizzata e microcippata. L'appello dei volontari di San Michele di Gansaria è quindi rivolto alla comunità e alla gente del paese con l'auspicio che, se qualcuno l'avesse rivista in paese, si facesse almeno avanti e informi volontari che vogliono fare adottare la cagnetta. La cagnetta che il più delle volte è stata notata sia nei pressi del municipio, della chiesa del paese e nelle vicinanze dei poli ambulatori.